Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 5 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Sabato pigro di luna storta. Luna malmostosa che ricalca il cielo novembrino, in conflitto con il vostro segno, che bersaglia con una potente quadratura. In più il Sole, Mercurio e Marte, tutti allineati come soldatini contro di voi, ci sarebbe poco da stare allegri e invece, complice Giove ottimista nel segno, vi sentite forti e padroni della situazione, mentre Urano che lo accompagna dirige i lavori con invidiabile tempismo. Se qualcosa da cambiare c'è, in casa, in famiglia, nei vostri atteggiamenti, siete finalmente pronti a farlo avanzando con decisione a passo marziale. Erotismo goloso dopo qualche incertezza, né letto né chi la dura la vince. In amore presto riporterete una vittoria importante, un riconoscimento, un risultato importante. La vostra situazione sentimentale migliorerà e saprete ritrovare gli antichi sapori del sentimento e della tenerezza. Buone prospettive per i single che potrebbero incontrare l'amore, ma riportare vittoria in tutti i campi come quello professionale, economico e lavorativo. Marte potrà crearti piccole difficoltà nei rapporti a due. Non innervosirti. Questo sarà un bellissimo giorno. Ottimismo, amore e tanta allegria. Sarete interessati a un breve viaggio, magari potreste unire l'utile al dilettevole. Doverete migliorare la qualità della vostra vita, solo migliorando e migliorandovi riuscirete irresistibili per gli altri e in particolare per le persone che vi interessano e vi stanno a cuore. Idee geniali. Popolarità. Riceverai lodi e complimenti ma fai attenzione agli adulatori. Oggi potresti scoprire un segreto e capire molte cose, adeguati ma mantieni la calma. Attirerai persone valide e gentili. Riuscirai a risolvere un grosso problema. Dialogare e comprendere. Queste due parole vi torneranno utili prossimamente con il partner. Galoppate troppo con la fantasia in merito ad alcuni dubbi che di recente vi sono venuti sul conto della persona che amate. In fondo sta usando solo la libertà che gli spetta di diritto. State per cogliere i frutti dell'amore, siate generose con la persona che ha attirato la vostra attenzione. Se lo merita in tutto e per tutto. A volte avete una concezione troppo idillica dell'amore e non vi rendete conto di quello che avete già a disposizione. In amore non pretendete troppo dal partner. Ci sono delle scelte da compiere in breve tempo, anche se non siete molto sicuri dei risultati che vi porteranno. Accettate le fasi di super lavoro, ma non stressatevi troppo. Oggi avrete la luna in leone ostile cui si sommeranno Marte, Mercurio e il Sole, rispettivamente tra leone e scorpione. Voi terrete botta e di fronte ad alcune divergenze che possono verificarsi, riuscite a minimizzare con la tipica bonomia di cui lo zodiaco vi ha dotati. Imbrunciati con la luna di traverso, visto che transita in leone, ovvero una quadratura rispetto al vostro segno. Malumor in famiglia, specie se per cause di forza maggiore avete dovuto rinunciare al ponte per restarvene a casa alle prese con qualche guasto o una cena tra parenti che proprio non potete sfangare. Amore ed eros. Troppo nervosi per impendervi col partner, anche la famiglia avverte la vostra insofferenza e si comporta di riflesso. Se siete saggi evitati di trascorrere il weekend nella casa di montagna dei suoceri, nonostante adoriate la natura e non disdegnate la polenta cotta sul caminetto ne uscireste per i nervi a pezzi. Se proprio dovete, prima attivate il self-control con un paio di ore di yoga. Momento sereno variabile in amore. Ma quali sono i segni che più vanno d'accordo con voi in quella che chiamiamo compatibilità astrale? Quelli di terra, il vostro stesso toro e poi il capricorno e la vergine, e poi anche due segni d'acqua che vi donano fantasia e creatività, il cancro e i pesci. Con questi segni il rapporto si svolge in modo fluido, sereno, viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. Se invece vi trovate ad avere a che fare con l'opposto segno d'acqua dello scorpione, il segno d'aria dell'acquario e il segno di fuoco del leone, siete di fronte a quei rapporti passionali intriganti sotto tutti i punti di vista e che possono completare alcune caratteristiche che al toro mancano. A voi la scelta. Lavoro e denaro. Se credete che il nervosismo si scarichi facendo, oggi avete sbagliato indirizzo. Troppo instabili o addirittura isterici per applicarvi, finite col perdere tempo, alimentando ulteriormente la vostra irritazione. Difficile tenervi fermi ma anche interessarvi a qualcosa, potreste andare a ballare, ma da spaiati è meno divertente. Piano al volante, tutti in pista per il rientro e di malumore per lo stesso motivo in autostrada si rischia di combinare guai. Attenzione alle distrazioni quest'oggi con mercurio in aspetto dissonante in scorpione. Potreste imprevedibilmente non essere concentrati e trovarvi impreparati, non come abitualmente siete abituati ad essere. Benessere. Collina e montagna in autunno sono impagabili, con i b e i colori e il profumo di legna appena tagliata, se poi passando davanti a qualche tratto riavvertite profumo di polente e funghi, pancia mia fatti capanna. Ma proprio qui sta il busillis, non imballate lo stomaco oltre la sua capienza, col rischio che il piacere della buona tavola divenga. Dispiacere a causa di un'indigestione. Denaro. Fate più attenzione del solito oggi a come spendete i vostri soldi. Il sole, Marte e Mercurio nel segno del denaro liquido, lo scorpione, ostili al toro, potrebbero non rendervi oculati come voi di solito siete. Per lei, fregatura del weekend autunnale, il doppio invito a pranzo da mammina e dalla suocera. Con astuzia riuscite a posticiparne uno, ma sempre col dubbio di aver fatto la cosa giusta. Risultato attendibile, peso sullo stomaco sia oggi, sia domani. Per lui, casa, dolce casa, lo avete sempre pensato e blaterato ai quattro venti, ma ora solleticati da un vento ragnano che vi spinge a esplorare il mondo, non siete più dello stesso parere. Basta routine, stesso ambiente, stesse facce, subito a prenotare le vacanze per il prossimo ponte dell'Immacolata. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, beneessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.